Lavori di drenaggio sul Danubio. Il maestoso fiume riceve ogni anno dai suoi affluenti grandi masse alluvionali precipitate dai monti, composte di sabbia e ciottoli che modificano continuamente il letto del fiume, costituendo un pericoloso ostacolo alle navigazioni. Periodicamente entrano perciò in azione flottiglie di speciali imbarcazioni munite di potenti draghe che provvedono a ristabilire la profondità necessaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.